Il governo siciliano di Renato Schifani continua a mantenere attiva l'azione di sostegno alle categorie più fragili. In particolare, un finanziamento di oltre 700.000 euro è stato erogato dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati. Nella fattispecie si tratta di 7.227-135.000 euro che sono stati trasferiti ai comuni siciliani e che saranno assegnati sotto forma di contributi a 151 persone con invalidità totale e 18 con invalidità parziale. Siamo riusciti, sottolinea l'assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, Nuccia Albano, a soddisfare le richieste di tutti i cittadini siciliani che avevano presentato la domanda. Diamo così piena attuazione e concretezza a un progetto politico che restituisce dignità e speranza ai nostri concittadini con disabilità. Si tratta di somme che faciliteranno la loro vita quotidiana, abbattere tutte le barriere architettoniche, uno degli obiettivi della nostra azione di governo. Vogliamo, conclude, che tutti i luoghi siano accessibili e fruibili ai disabili e lavoriamo costantemente per dare risposta alle esigenze delle persone più fragili.